Un mese dall'inizio di Expo 2015, anche Roma celebra la coniazione della moneta unica legata al grande evento milanese. Ambasciatrice dell'Expo, l'Etoile Carla Fracci, in piazza del Campidoglio per la cerimonia di coniazione della moneta, insieme a 140 giovani delle nazioni partecipanti all'evento di Milano. Ognuno con la bagnerina del proprio paese e poi il lancio beneaugurante delle coniazioni nella fontana della Dea a Roma. La giornata di festa è iniziata con l'arrivo della banda musicale della Polizia di Stato, accompagnata dal coro femminile dell'Aureliano. Scopo della coniazione è sensibilizzare soprattutto i giovani al tema della lotta alla fame nel mondo, che è anche l'obiettivo del programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite.